Da sempre misuriamo il mondo, per conoscerlo ed esplorarlo, per viverci, per vincere le nostre paure, per interagire, commerciare, dare e avere giustizia, rapportarci con le divinità, per convivere con la gioia della vita e il dolore della morte. L'uomo è un essere sociale e ha quindi la necessità di mettere in comune la misura. Ma occorrono millenni perché, grazie all'afflato universalistico e democratico della rivoluzione francese, si decida di definire delle unità di misura uguali per tutti. Il metro, il chilogrammo, il secondo, diventano patrimonio dell'umanità. Nei due secoli successivi la scienza estende a sette le unità di misura fondamentali in cui è racchiusa la complessità dell'universo. Dal caffè alle galassie, dai quark ai buchi neri, tutto l'universo si può misurare con queste unità di misura. Il metro per le lunghezze, il secondo per il tempo, il chilogrammo per la massa, l'ampere per la corrente elettrica, il grado kelvin per la temperatura, la mole per la quantità di sostanza, la candela per l'intensità luminosa. Scopriamo i sette mattoni sui quali è costruita l'intera conoscenza scientifica.